Benvenuti in questo nuovo video di Fortnite, quest'oggi è una challenge veramente buffa e particolare L'hanno fatta, mi sa, Music, l'ha fatta, mi sa, anche la Clan, se ricordo bene E funziona in questo modo Tu vai di fronte ad una chest, quindi possiamo lutare solo dalle chest, ok? Ok E dici, qui c'è un pompa del nonno, e apri No, se c'è, lutti No Se sbagli, vai al bar No, ragazzi, no, no, mi ritiro, Steph, è troppo È interessante Non è buffa, eh Ecco perché non ci aveva detto niente È insupportabile Ammetto che è interessante Però adesso, prima di partire, io almeno una televendita video devo fare È un po' un dubbio Cioè, in questo periodo, devo fare la televendita del Super Tech Creator, Steph2317, perché siamo su Fortnite O dell'album di figurine 299 Album Album In realtà, facendo questo quesito, è stato un modo furbo di farli entrambi Quindi volevo farvi vedere questa strategia di marketing In modo breve, conciso, Steph Vi ho fatto entrambi, bum bum bum, ho fregato tutti Arginiamo un po' Andiamo Spero non ci sia nessuno, perché abbiamo bisogno di davvero tanto tempo per lutare oggi Quindi spero davvero che siamo safe Steph, dobbiamo azzeccare anche la rarità? No, è troppo, secondo me Allora, io vado SMG No SMG? No, c'è la assault rifle e uno spara bene AR dovete azzeccare anche se è FAMAS o se è AR normale Io infatti c'era il FAMAS Allora, AR verde Ah, SMG FAMAS FAMAS blu FAMAS blu Bravo Bravo Compioncino Raga, mi è venuto in mente una strategia per questa challenge No, ragazzi, niente Ho una strategia Dici, dici Cosa amarci? Io l'ho amazzo Mark l'ho amazzo Praticamente possiamo aprire anche le cesse speciali Che hanno un drop molto più costante E indovinare abbastanza facilmente quelli E questo mi dà un po' un patatico verde AR bianco SMG di nuovo, non è possibile Ragazzi Però i tis possono usare Sì, ho solo quello io Io non ho trovato niente Non trovo neanche casse Beh, io ho droppato qua perché sapevo che tre casse c'erano Allora, a sto punto SMG verde, tre volte di fila SMG, non ci credo Oh, io l'ho trovato, pure io Pure io Raga, per SMG Quindi al terzo l'ho detto ed era davvero Anche io praticamente lo trovo sempre L'ho detto ed era davvero Ecco l'SMG Ho solo quello però Uh, lì c'è una guardia, ok Raga, vado di nuovo di AR verde io Ci provo No, tattico verde, raga Io mi sa che ora inizierò a dire tattico, tattico, tattico Anche io perché ne ho bisogno Allora, ragazzi, ce l'ho qua a fianco Tattico verde Tattico blu Ma stai indovinando anche le rarità Sì, perché mi sento i tiri di indovinare anche io Sì, è dato È una questione di rinforzio No, vabbè, perché io l'ho trovata verde Non vorrei che Tattico 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 La R verde, ragazzi C'è un tattico blu sotto Qualcuno trovi un fucile a pompa, vi prego Aiuto Tempo, vuoi sapere il mio loot? Vai Allora, tre scudi Non mi sono ancora fullato Ok Ho tre scudini Due scudoni Un medikit Perfetto Tattico verde Niente No, R blu No, l'SMG No, mi vado a piangere, ragazzi Ok Io mi vado a trasformare Così posso aprire anche le casse Eh, sì, anche io Palese Esatto Tattico Tattico Sì Allora Grande, abbiamo un fucile a pompa AR L'AR classico SMG di nuovo Porca miseria Ragazzi, io ho tre scudoni e uno scudino Se avete bisogno Io sono veramente C'è solo quello Anch'io Io non ho un'arma, raga Sono l'unico che non c'era un'arma Perfetto Allora, andiamo qua Questa è già aperta Ok Raga, è difficilissimo È veramente difficilissimo Anche perché adesso Noi possiamo usare le casse speciali Ma le casse speciali Non danno mai Il fucile a pompa Esatto Quindi Il fucile a pompa Ce l'avrà solo Marche Probabilmente Allora, io mi sono trasformata Quindi posso aprire anche le casse speciali Ok Mi raccomando Ricordati cosa c'è dentro, Fer No, volevo dire C'è dentro Allora, in questa zona qua Eh beh, devi indovinarle C'era l'SMG Se non mi sbaglio In questa zona Ma devo indovinare anche più armi Quindi Bene, basta che indovini un'arma che c'è Ok E puoi luttare solo quelle che indovini Cosa c'era qui La K Il bar 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 Il SMG piccolo Quindi Non mi serve l'SMG Quindi proverò a dire a K Perché non ho il fucile d'assalto Ok Io dirò solo l'SMG No, perché non ho detto tattico Ho perso l'accesso senza di facera No, Steph No R Però non puoi fare ste robe No, niente, ragazzi, io piango Raga, ho sprecato l'occasione della vita Tu mi resta Ma voi avete un'arma, almeno tutti voi Almeno Io due ne ho Una sì Una sì Certo, certo, bravi Fer Stai andando con la K SMG piccolino Cercano di raggiungerla Eccola da qui Allora Allora, io dico la K A K anche io Una K a testa Vediamo se da doppia K Attenzione Doppia K, dai Porca miseria Ma porca miseria Barrette di SMG Ragazzi, ma scusate Ma in tutto ciò Sì Dov'è la tipa? Esatto Perché così almeno andiamo a lottare sotto Esatto No, ragazzi, io sto rosecando per il tattico C'era pure blu Era pure blu Tattico Pistola blu Raga, non trovo nulla Ma cosa vuoi? Non ho nulla Ma raga, ma io Tu non hai un'arma Almeno, spero È un SMG Tattico, tattico, tattico Ma è normale che in quattro C'è sempre quello a cui va malissimo Sempre Sempre Di solito sono io Quindi Ma poi, vabbè, ho trovato un'arma Ragazzi, mica posso stare con le SMG E basta Sì Ti prego Tattico No, è l'altro pompa Io non voglio stare con me Fortuna Però, ragazzi Eh Raga, ma dov'è il nitroglicerina? Non lo so Non lo so Eh Non l'ho vista Ma raga, qua c'è una cesta Penso sia lì Io ho visto una cesta speciale Aspetta che riprovo con la K Vai, Fere Chi è che ha preso l'elicottero? Io Teoricamente Teoricamente Il nitroglicerina sarà qua Allora, a K Forza Allora Dammi una R Ti prego No, raga Ma cos'è, dai? Fai il fucile d'assalto pesante, ragazzi E il mini Uzi Ma siamo sicuri che qui droppi la K e non droppi solo il fucile d'assalto pesante? No, 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 dì, dà anche la K, a me hai dato la K, ragazzi Raga, una cesta R, dico solo R, una verità qualsiasi Vi prego Vai Ok, dai Famas verde Dai Ma non è Famas o R Eh, cos'è? Eh, no, Famas e Famas, abbiamo detto prima No, raga Raga, la zona Raga, siamo morti Siamo morti, molto Oh, no Io vado ad aprire lo stesso Allora, jump Raga, già abbiamo l'elicottero Raga, steffo, viene a prendermi Sì, ma io vado ad aprire il coso, me frega nulla, prendo danni Il cavo Sì, se avete medikit, collezionateli Io ne ho uno, vengo anch'io Tenti, vengo con te, steff Andiamo Eh, ragazzi, non posso stare con solo le smg guammi, mi laserano in due secondi Crediamoci Allora, ognuno si prende una cassa No, ragazzi, apritele voi, io sono messo bene Cosa può uscire, steff? R Qua possono uscire? No, però sono a K questi Allora, a K viola Allora, aspettate che provo a dire, fucile a pompa, tattico, epico A K viola A K Ok, c'è la K blu No, la puoi prendere, la rarità non conta L'hai trovato? Sì, sì, sì Ok, viola, l'ho detto all'inizio, va bene lo stesso Sì, 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 la rarità non conta Non conta, ragazzi, lo facevamo tanto per Ok, andiamo? Andiamo, via, 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 via Arrivò a prendere bene, almeno Ok Io mi doveri tirare il medikit Sì, anche io me lo tiro prima di salire sull'elicottero Ok, raga, dai, io ho due armi Anche io, a K e l'SMG Ci può stare Allora Allora No, ci fermiamo Li diamo noi il medikit a Marco Eh, ma è troppo tardi Deve correre Dobbiamo cercare di andare in zona Spamma quei boost Spamma, spamma Non ce la faccio Non ce la fa Non ce la fa Non ce la fa, raga Raga, scendiamolo Portiamo a mano noi Sì, 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 sì Infatti, continua a scendere di 4 E mentre vai avanti Più siamo avanti, meglio è Dai, però non è male Non è male Dai, siamo vicini Ultimo boost Vai, 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 vai Ok, non è male Ok, vado a prenderlo Ok, vai Ci sparano Non ci credo Ma pure, riparatevi Non posso trasportarlo Deve andare fuori Ok Ok, ce la fai? Sì, sì, sì Non ha shield Arrivo, Steph Non ho visione Tanto scudo me lo lascia Quindi sono 130 Va benissimo Ok, avete fatta? No, ma ti do il medikit Ti do il medikit Perfetto Allora Posso tirare anche un altro Metà vita Anche io mi sto tirando In questo momento Certo che poi Non abbiamo proprio visto La safe, ragazzi Ce ne sono proprio fregati Ebbè, perché Nuova morbi Abbiamo pensato Arrivano, eh 31 bianco Questi qua li facciamo, raga Arrivo, Steph 34 bianco 34 blu 36 una shield Eh, vabbè Stai fermi Immobili Ci penso io Una giù Una non una shield Bravi che sto permi a cecchinare Bravi Bianco Famo gradate adesso Mi ripingate per favore Ragazzi Di fronte a noi Giù un altro Non staff Mark Ok Provegli a due Sulla terra Hai bisogno di cure Ferre Eh, sì, vabbè Pazienza Quattro Aspetta 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 33 Paralchilla Lì Nuovissimo Staff Ok Mi sto curando Giù un altro Ma quanti sono? Ne manca una Secondo È Laila Di pronto a voi Ucciso Ce n'è un altro Ragazzi è un altro team No, no Quanti sono? Mi serve una mano Sono qua Fatto Ok, perfetto Non possiamo prendere le armi No No, io prendo Io però prendo Un medikit E me lo tiro Eh, sì Per forza Cavolo Quanta roba c'era Questa Ma io te lo sei di vita È tutto a posto Ah, è tutto bene Curatevi Bene, bene Fere, hai preso tutto? Sì, sì Sono a posto Ok, occhio Eh, ma quanti ne abbiamo lutato? Eh, Steffo? Eh? Io ho uno Lo luttato C'era un medikit a terra Però ragazzi Sono sicuro Occhio alla safe Andiamo Metto una jump Mi sa Ah, basta Questa safe Occhio agli alberi Ok Quanto è lontana? Sì Dobbiamo per forza andarci Per prendere Ma anche lì puoi indovinare Cosa? Anche lì puoi indovinare È vero, è vero Anche lì l'air drop Sparo per forza pompa, no? Sì Però quale dei due? Per me c'è lo scar qua, raga Mi spiace Secondo me lancio razzi O la pistolina Sì, ma tanto lo scar non ci serve Io dico fucile a pompa Quello del non avanzato Vai, va bene Io dico lancio razzi Io scar Ma non potete spararlo tutti Io ho zeccato Lei ha zeccato Vai, corri Via, 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 via Perché non mi ha piazza? Lo si truola, scusa Lo spasso? Ma hai dovinato E io ho detto Fucile a pompa E l'hanno avanzato È vero, è vero Raga, abbiamo anche pure Io c'ho due scildoni E due scildini Eh, vita Vita no Non ho una vita In tutti i segni Dovrebbe essere un falopero in zona, eh Esatto Cioè io ho stai di vita Capite Eh Forse qua davanti c'è qualcosa Sì, andiamo, andiamo Mannaggia Allora, io non ho bisogno di indovinare Quindi vi lascio a voi Va bene, eh Anche io Io sono la K, la gaviola Quindi Io mi arrangio a K, SMG Per quello vorrei lanciare azi Capito? Io l'ho sparato Se volete provo, dico pompa Perché ho detto Se non mi esce il pompa Vai, sparate perché devo aprirla Perché devo trovare cure Pompa, pompa Qual è? Tattico Normale o tattico? Tattico? Vai Sì Ti lo prendo io Ok L'avete fatta? Sì, sì Qui c'è una cassa Per quello Riproviamo tattico? Tattico Ok, niente Tattico anche qua Minigun Mannaggia Ad aspettarci Minigun Eh già Ad aspettarcela Non mi avrebbe fatto schifo Raga, non trovo delle bende Allora, aspetta Andiamo a parco pacifico Esatto Ci sarà gente però, eh No, ma più che altro Perché la gente Lascia tipo le bende sotto il tetto Delle case Ah, sì, 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 sì Dicevo sì, siamo in 13 Ma saranno tutti qui Quindi occhio Era nel senso occhio Che poi magari Ti prendono alle spalle Beh, abbiamo fatto solo Ultime da 4 Quindi Sì, perché non dobbiamo Alressarsela Esatto Ok Questa casa è luce Ah, c'è gente C'è gente Dove? Ok Occhio 25 blu 25 blu Ci stava puntando Raga, quindi ho dovuto spararli Mi sto tirando le bende io Quindi siete senza di me No, è andato via Vabbè, gli facciamo esplodere tutto Torna È là 23 blu È là Sta scappando Ho guardato la recca E era 17-17 Ok Ultima bende Raga, io Io provo a luttare Questa casa non è luttata Tanto è uno da solo che scappa Ce l'ha fatta anche da soli Eh, vado a prenderlo Con contena Marco Sta allontanando tantissimo Questa casa non mi sembra luttata Ok 21 blu 21 blu Bravissimo Eh, ragazzi Questa se ne sta proprio andando Cosa faccio? Lascio perdere Andando al bar Lasciamolo perdere Boh, secondo me sì, raga Non dividiamoci Poi rischiamo solo che alla fine Ci splittiamo Ma io sono arrivato Io sono arrivato Eh, io sto provando a luttare Se non avete mazzo E farmate un po' Eh, sto farmando Che siamo alla fine Io sono un po' di legno Ma il resto sono messo male Io ho 500 di tuttore Se vuoi qualcosa, Stef Ehm, no, dai Ok, io me li farmo, dai Raga, sopra la montagna C'è un team comunque Ok, ma non siamo Tattico verde O blu Aspettate Ho indovinato? No Ho un fama Però è un risciatore del pompa Poverina Ci sto provando Vi state spostando, ragazzi? Ma Ok Stiamo sempre un po' Luttando a caso e basta Stef, me ne hai trovato pure un pochino? Sì, sì Vedi la mia vita Ok Ragazzi, cecchina Sì, l'ho vista Nel momento in cui te lo stavo domandando Ragazzi, stiamo iniziando a vicinarti Arrivo, arrivo, arrivo Allora Occhio perché sono sia lì Che di fronte a noi Colpigliere pigi Qui a nord troviamo un team Lo possiamo laserare da lato Ok Eccolo, guarda Lo guardo, bravissimo Mi è stato tutto Ma quella non si va neanche coperto Già E io l'ho messo Lo stesso L'ho tolto lo scudo Arrivo Ragazzi, sono pieno di granate Ne ho nove Vai fare usare Perché C'è un lanciarazzi C'è un lanciarazzi Lo so, calma Marci Calmati Ok Ok Gli ho tolto il salto di scudo Ok, come ci muoviamo Ok Cade C'è un lanciarazzi Ah, ma l'ha laterato a me Nenche l'ho visto Si confondeva con la scuola Lo scudo con me Ragazzi, un è bianco Mi curo, raga Perché c'è due con me 41 Occhio Da dov'è che cecchina, no? Lato destro Ok Una terra Una terra Bravissimo, Marco Ragazzi, ci trovo con la K Perché mi sono io Ora perché sono fuori safe Te lo fai nel chilo Ok, grazie Muoviamoci un po' Occhio all'altro team Che ci può sparare dalla montagna Ha tolto lo scudo a quello Con il bianco Ha distrutto tutte le strutture, raga Sarà preso quella della montagna Ha fatto una kill Si, la sei perata Però l'altro ha mortito Non l'ha chilato Sarebbe carino da lottare Per i materiali Che sarebbe qua Sì, assolutamente Sono ancora lì dentro Comunque sta difendendo il mate 36 E' abbandonato Ok, con l'andato Killato Raga, siamo 4 v2 Ok Con il medico Marco Ah, scusami lo vuoi Sì, sì Hanno entrambi il cechino, raga Stanno giocando con doppio Barrett Ok Sono sulla montagna Giusto Sì, sono scesi dalla montagna Sono scesi Ok Li vedo Hanno solo Barrett 2, 2, 2, 2 Vedi, fanno la ball Barrett Sì 30, 30 bianco Eh, scusami, blu Ok Io mi avvicino un po' Raga, faccio un voler 37, 37, una bianco Lo pusho Raga, tiro due granate Vai Vai Ucciso uno con la granata Occhio, non sappiamo dove l'altro Se l'ho fatto L'altro qua dentro Occhio, vino nel pop, eh Non è lì No Occhio Quanta bella roba Questo ci vira quel cechino Eh, può essere Dietro di noi 31 Dove, vedete, dove ha pillato Sì, arrivo Sì, arrivo Lo sapevo che ora fargli infame Guarda Ha fatto tutto il giro Schifoso Lo faccio cadere Lo faccio giù Merasile Vai, stasera Tu e tuo Va fai Yuppie Bella Brava Complimenti Primo tentativo Allora, io inizialmente Con l'ultimo Inizio l'ho avuto paura Poi è andato bene Ci è girata bene oggi Sì, beh Abbiamo preso quel rischio Dell'andare fuori zona E fai dato un team Mentre eravamo Mezza terra Senza vita Eccetera eccetera Che è stato un rischio incredibile Però ci ha comportato La campioncini, ragazzi Quindi, secondo me È stata una bella prova First try Challenge la secca secca Bello Raga, ci fermiamo Speriamo che questa challenge Vi sia piaciuta Sotto come altri video Iscrivetevi al canale Campellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao